Sì, assolutamente. Noi abbiamo presentato un piano da 460 milioni di euro, 230 li abbiamo già appaltati nel corso di quest'anno, le operazioni Civita Vecchia in particolare è tutto un cantiere. Stiamo cercando, abbiamo sbloccato i 170 milioni che ci consentiranno di realizzare la darsa energetica a grandi masse. Stiamo lavorando per dotare Civita Vecchia delle strutture che oggi non ha e che rispondono invece alle esigenze del mercato. E quindi l'unico porto in Italia, ripeto, l'unico porto in Italia che può realizzare e che ha la capacità infrastrutturale di farlo è proprio Civita Vecchia. Quindi il nostro lavoro va nelle direzioni di creare questo grande polo industriale marittimo, io lo considererei, lo chiamerei così, per dare risposta poi a quello che è l'annoso problema. Il nostro lavoro va in un'unica direzione che è quella di riuscire a creare nuove occasioni di lavoro. Lo stiamo facendo con grandi sacrifici. Questo piano industriale chiaramente non è un libro di sogni, è tarato sulle risorse, l'abbiamo inserito addirittura a ciò che abbiamo già appaltato, proprio perché la realizzazione di quelle opere ci consentiranno di avere un nuovo bacino di carenaggio, un nuovo polo di bunkeraggio, una nuova area industriale, nuovi collegamenti marittimi. Abbiamo raggiunto l'importante traguardo di 24 milioni di tonnellate di merci che ci consentiranno di partecipare alla gara per l'inserimento di Civitavecchia come porto di core network in Europa, quindi tra i porti più importanti del Mediterraneo. E quindi non vogliamo far altro che, ripeto, rispondere alle esigenze del mercato e diventare per le merci ciò che oggi Civitavecchia è per i passeggeri. Abbiamo bisogno anche degli altri due porti, proprio per realizzare in un senso di integrazione con le altre realtà, di raggiungere questo importante obiettivo. Allora, quali importanti opere sono già arrivate al traguardo e quali saranno le prossime? Abbiamo raddoppiato, quindi abbiamo realizzato i 400 metri di ampliamento dell'antemurale, stiamo realizzando la darsena traghetti, la darsena servizi, e devo dire che la cassa di colmata ci è stata consegnata con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma e a giugno avremo il primo pannello per l'attracco di navi Rorò. Stiamo realizzando nel frattempo la parte di scoglieramento e quindi di banchieramento del bacino di carenaggio con la parte iniziale di antemurale che poi arriverà fino al pontile primario dell'Enel. Abbiamo realizzato, abbiamo già appaltato tutta la rivisitazione del Marina di Roma perché il porto storico di Roma, il vecchio porto di Traiano diventerà uno splendido marina di Roma con accordi internazionali che abbiamo già chiuso e che aspettano soltanto la fine della lavorazione per vedersi concretizzare, comunque per essere concreti. Quindi questa serie di iniziative che certamente hanno significato in termini di lavoro veramente grandi sforzi e io di questo per i risultati ottenuti noi cresciamo in termini di merci abbiamo raggiunto l'obiettivo più 16,8% in termini di occupazione ecco io per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che quotidianamente lavorano nell'autorità portuale e lavorano in porto. Presidente, l'ultimo comitato portuale ha approvato anche la nascita di una nuova società. Quando sarà operativa? Lunedì abbiamo la riunione al Ministero degli Interni, è una società di sicurezza portuale vogliamo gestirla in proprio, vogliamo gestirla come autorità portuale abbiamo la possibilità di legge per la legge di farlo per istituire dignità ai lavoratori che ci sono e dare nuove occasioni di lavoro in futuro a coloro che dimostreranno di avere la professionalità adeguata. Marina Jotin, ma anche abbiamo parlato di Oceanario come lavori che sono praticamente già quasi ultimati e poi il trasferimento di tutte quelle zone, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza ed altre attività che sono legate anche al settore della pesca e che consentiranno di dare maggiore rispiro al porto storico, a quello che arriverà dopo. Assolutamente, non ho parlato del museo prima, ho parlato dei 260 milioni già realizzati quando si realizza un'opera bisogna avere una progettazione preliminare, poi definitiva, poi esecutiva c'è una procedura amministrativa molto lunga in quest'anno noi l'abbiamo fatto, abbiamo avuto la possibilità di realizzare concretamente nuove infrastrutture i lavori sono, c'è la draga più grande al mondo in Porto e dall'altra parte anche di programmare quelle che saranno le future realtà e l'Oceanario è una di quelle, è una struttura adeguata alle esigenze di Civitavecchia per 700 mila visitatori, nonostante abbiamo circa 3 milioni di passeggeri che arrivano ogni anno e che toccano la parte dell'antemurale è una struttura molto bella che rispetta le norme del piano regolatore portuale abbiamo chiaramente il disegno e l'approvazione in conferenza di servizi con tutte le sovrintendenze e siamo felici di metterla in cantiere da marzo dell'anno prossimo e magari di posare la prima pietra nel giugno del 2013 Per l'edilizia De Magnale abbiamo investito 83 milioni ieri è stato da noi il provveditore Carrer che ringrazio personalmente perché ha con noi sottoscritto questo importante accordo che ci consentirà di trasferire la Capitaneria di Porto adeguando e ristrutturando tutti i locali ex ferrovie dello Stato la grande stazione Ero Navale della Guardia di Finanza e tutte le altre opere di edilizia De Magnale che riguardano in particolar modo il settore della pesca al quale fin dal mio insediamento abbiamo comunque come dire ho sempre avuto un occhio d'attenzione non perché ma perché perché per noi la flotta peschereccia è qualcosa di straordinariamente importante il gruppo di azione costiera formato con gli altri comuni l'integrazione con gli altri comuni è stata importante abbiamo ottenuto 800 mila euro per quel settore stiamo cercando di dargli una mano saranno trasferiti nella darsena servizi e certamente lì faremo un'asta moderna adeguata a quelle che sono le esigenze le esigenze di tutti i pescatori elettrificazione e banchine siamo i primi nel mondo dopo alcune piccole adattioni l'Europa le città e qualcosa di diverso ma anche la necessità dei raccordi intermodali ecco come si lavora in questa direzione 18 milioni di euro andiamo in gara prima della fine dell'anno per collegare partiamo prima dai collegamenti intermodali per collegare la zona industriale la 1 con il nostro porto a nord perché sviluppando il porto a nord dobbiamo cercare di decongestionare il traffico a Varco Fortezza e a Varco Vespucci oggi quasi tutto il guidato arriva su Varco Vespucci passa in parte da Varco Nord noi stiamo realizzando con 6 milioni le rampe di collegamento che arriveranno direttamente dietro dalla Bretella dietro ad Arsena Draghetti e con 18 milioni ci collegheremo alla 1 direttamente alla zona industriale allargando laddove è la Molinari tutta quella strada che poi porta verso la zona industriale l'elettrificazione delle banchine è qualcosa così come per tutti gli altri temi che toccano l'ambiente della quale non ci siamo mai riempiti la bocca ma concretamente con grande lavoro con grande dedizione con i nostri uffici abbiamo cercato di portarla avanti siamo ormai nella fase di definizione degli accordi con gli importanti soggetti che poi dovranno realizzarla partiamo con due banchine elettrificate per poi cercare di realizzarle mano a mano tutte chiaramente tutte saranno predisposte le prime due andranno nelle navi da crociera e poi vedremo piano piano anche con le risorse a disposizione certamente con grande impegno ce la metteremo tutta per dotare tutta la nuova d'Arsena Draghetti di banchine elettrificate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti